No, all'articolo 177 del Codice degli Appalti, quali sono le preoccupazioni? Le preoccupazioni sono che se passassimo questa legge praticamente ci ritroveremo a lavorare con delle ditte, per le persone che lo conosciamo e non avremo sicuramente le stesse rassicurazioni che abbiamo adesso all'interno di Enel, che comunque in parte è una cosa statale, quindi siamo molto più tranquilli. Si tratta di garanzie anche per i cittadini, per gli utenti? Esatto, questo sicuramente perché attualmente all'interno di Enel i cittadini e gli utenti hanno la possibilità e la sicurezza che in qualsiasi momento si chiama, nel senso che in qualsiasi orario, essendo irreveribile, a noi ci chiamano la notte e interveniamo in mezz'ora. Una volta che tutto questo è un delio possibile, che l'Enel non è più presente in questo modo, non so se potremo mantenere la stessa durazione.